Ciao a tutti ed eccomi qua finalmente con l'ultima parte del box di Plasma Storm Allora, iniziamo... Devo interrompere un attimo il video E riaccomi qua, continuiamo subito Ok, via 1, 2, 3 Panseer Porloin Litwig Turtwig Riolu Durant Ma quanti cazzo ne ho trovati anche di questi Durant Evil Condensa Vimbran City Gym, perfetto, ne ho due, vai Reverse Fune di Fuga Erara Garbodor del Team Plasma Buono, decisamente interessante Andiamo avanti No, sinceramente non so che cazzo fa gli attacchi, però intanto del Team Plasma Via 1, 2, 3 Su Abbiamo Patrat Magnemite Clefairy Lautard Purloin Purloin Plasma Grant Reverse Che cavolo, qua ho tutte le rare in tutte e due le forme O meglio, ho metà delle rare in tutte e due le forme Non so quante rare siano, però Se ce l'ho in tutte e due le forme Ok 1, 2, 3 Whismore Coffin Elgem Sea Waddle Doduo Rotom E il terzo E vai Galvantula E L'ombre Reverse Manfi Raro Perché mi ricordo di averlo trovato prima Raro E che cavolo E Raro Oh Oh mio Dio Oh Cazzo Oh Ma ma È la prima È la prima fuori serie che trovo in un box Cazzo E vai Cazzo Charizard Fuori serie Oltretutto con il macchino shiny Tutta il bordo d'oro Tutta Il rilievo Tutta bella ruvida Si sente? Aspetta Colloco che è quello ruvido Il rilievo Si vede comunque Si vede che L'onografica Vedete che fa Tutti gli spicchi Tipo Che figata E fatalità Mi mancava comunque il Sarita Perché Non l'avevo trovata in confini marcati Il plasma star me l'ho trovata E Reverse Eh sì Che cazzo Reverse E Fuori serie Si Oh Grazie per la visione E ci vediamo nel prossimo video No sto scherzando Andiamo avanti con questo Strafighissimo video Che Sto a posto No in realtà Non sto a posto Perché mi mancherebbe Solo una carta E so Vara Mi gioco quello che volete Che non la trovo In quelle 6 buste mancanti Perché Non le trovo mai Le iax Che Voglio Solo una Una volta mi è andata bene Col caldeo Basta Che ci diranno Non c'è come si pronuncia Perché Comincia a farmi schifo Chiamarlo caldeo Impossibile che si acquisterà pronuncia Uno Due Tre Tanto fra un po' esce il film Tradotto in italiano Quindi lo scopriremo per forza Clink Pansir Jolting Riolu Chimchur Colress Etere E Grotto Go Reverse Femfy E Rara Taukekiss Rara Olografica Buono Buono Taukekiss Di che generazione è Della quinta Mi ricordo anche più ormai Ok Siamo appunto Questa era la quarta busta Un attimo del conto Per essere sicuro Sì Ne mancano altre Quattro Quattro Più quella che sto andando ad aprire E stai su Allora Via Quante Quante cartacce Allora Abbiamo Trobish Togepi Swinub Scruggie Fungus Energy Plasma Buono Koffing E LGM E se non ho visto male Non ho ancora un cazzo di Goibat E continuiamo Inferno Raro Reverse Che cavolo Cioè Allora Vi dico già a sto punto Appena finisco questo video Tiro fuori Tutte le rare Tutte le rare Reverse E vediamo Quante ne ho trovate in coppia Perché non è possibile Rara Jelly Sand Sesta busta Uno Due E adesso Se trovo jelly Senta reverse Mi incazzo Proprio Patrat Trabbish Raflet Combi Zubat Amungus Siamo al quarto Evilite O Evil Condensa Piloswine Reverse Clefari Rara Cherim Che mi mancava Che carino che è Cherim però E' puccioso Allora No Non li ho mai trovati In busta vicina comunque Raro Raro Reverse Però c'è sempre rischio Che il jelly Siense in una di queste tre Ah Scuartato proprio Via Via Giù Abbiamo Roughlet Frillish Zubat Carvana Che è il primo che trovo Cioè due Sherpide e un Carvana Patrat Wachag Swadloo Lunatone Reverse Gallade E continuiamo questa storia L'ho trovata anche prima E' rara Scrafty Scrafty Del Team Plasma Beh almeno comunque Però non mi va male l'idea Di avere comunque due rare Perché visto che sono rare Sono difficili da trovare A prenderne quasi tutte doppie Con il fatto che Ne ho una normale E una reverse Mi sta anche bene Da una parte Dipende solo da quale rara è Doduo Carvana Togepi Cerubi Zubat Durant Lampent Che mi mancava Oh Sì Almeno un Golbat Reverse Scritti Rara Dodrio Rara Normale Che cazzo Almeno un Golbat Ultima busta Ultimo driftivo Per trovare qualcosa Di estremamente figo Che so già Non esserci Vabbè E intanto ho trovato Alciario Da sto a posto Più che altro Per la ricerca Che comunque Come carta Non mi ispira Troppe energie Richiede troppe energie Però Per il resto Mi piace a morire Bellissima Bellissima Allora abbiamo Femfy Ralt Skitty Patrat Cabcho Plasma Freegate Vanlish E Solo Rock Reverse Zubat E raro E un altro Crobat Vai Però Questo conferma La mia teoria Le ho trovate Tutte doppie Scusate Un attimo Di pausa Torno tra poco Per la conclusione Scusate La breve pausa Comunque Sono contentissimo Che ho trovato Un secondo Crobat Anzi De più Proprio Però comunque Le ho trovate Tutte doppie Vabbè Dai Comunque Non mi lamento A parte Il discorso Delle doppie Che A pensarci bene E' buono Perché comunque Ho un casino Di rare Un bel po' Di carte Team Plasma E questo Mi fa felice Due Tre Iax Che nessuna La volevo Perché erano Proprio di quelle Che non volevo Tutte quelle Che volevo Non è venuta Fuori Nessuna Però comunque Dai Tre carte Belline Prima Di fuori Serie Che riesco a trovare Faccio qua il blocco Oltretutto Charizard Contento Perché mi mancava Mi andava bene Anche Blastoise Perché così Ne avrei avuti tre Ma almeno Charizard Mi mancava Quindi Mi va benissimo E Cos'altro dire Vi confermo Il fatto Che appena Finisco sto video O meglio Appena ho due minuti Appena ho finito Fra poco E Controllo effettivamente Quanto è Rare ho E reverse Cioè Quante coppie Rare e rare Reverse Mi sono sentate fuori Su 36 buste Vediamo Quante coppie ho Io direi che Almeno una quindicina Ce l'ho Proprio Almeno la metà Ce le ho Meno 18 Sì 18 e la metà Meno 18 coppie Rara e rara Reverse Ce le ho Secondo me Comunque Controllo E vediamo Vabbè Appunto Parte questo video Come al solito Perché non stavo qua A fare Programmazione A lunga scadenza Non so che altri video fare Sicuramente a maggio Farò il prossimo box Plasma Freeze Hanno già annunciato il nome Plasma Freeze Con Pokémon di punta Deoxys Ma quello che interessa a me Che spero di trovare Che trovi solo Quella iX Piuttosto che tutte le altre Spero di trovare Latias iX Trovo Latias iX Posso trovare Anche solo merda Nelle buste Mi basta Latias iX Prego Il signore Di Pokémon Del gioco di carte Dei videogiochi Di quello che volete Che mi arrivi Latias iX Sono anche disposto A scambiarvi Qualsiasi iX Che volete Per Latias iX Normale Ed è l'unica Che mi piacerebbe Trovare Full Art Che la trovo Full Art È un normale Latias iX Prego di trovarla E parte quello Vabbè appunto C'è Deoxys iX C'è comunque Latias iX Perché i fratellini Non li fanno mai separati Ehm Altra gente iX Non me la ricordo No Non me la ricordo proprio E altre carte Neanche Perché comunque Non mi pare Che le abbiano Annunciate tutte Quindi So solo che c'è Deoxys Ehm Cos'altro dire Basta Anche verso Maggio In teoria Dovrei fare Un altro Battle Road Spero di arrivare A secondo posto Così Magari mi becco La carta di Victini Appunto Con la Coppa Argenta Se no Sarebbe ben La terza Di bronzo Ehm Cos'altro Boh Vabbè Appunto No aspetta Una roba alla volta Allora A maggio Ci sarà Il box Di Plasma Freeze Il Battle Forse Dipende se ho voglia Di partecipare Ma sicuramente Farò Anche di quello Il Cioè Sempre Sempre in quel periodo Il pre-release Di Plasma Storm Che adesso in italiano Non so come Verrà chiamato Spero non in un nome Patetico Ehm Quindi A parte questi Che comunque Saranno a maggio Siamo a fine Febbraio Sì Fine febbraio Quindi Uno Forse due parti del video A febbraio Due parti A marzo Quindi Da metà marzo A fine Aprile Non so Che video Vi farò vedere Boh Qualcosa mi invento Dai Non vi lascio Un mese e mezzo Senza video Qualcosa mi invento Da farvi vedere Ehm Non ho altro da dirvi Anche perché Anche questo video Se no diventa Lunghissimo Ehm Vabbè Al prossimo video Ciao a tutti